Buongiorno a tutti, Valentina Verga, capogruppo uscente del PD in Consiglio Comunale e siamo al secondo mandato. Allora, priorità per questa seconda consigliatura? Sicuramente i quartieri. I quartieri perché abbiamo fatto il giro dei quartieri prima delle elezioni, lo abbiamo fatto nell'arco dei cinque anni, abbiamo visto che purtroppo sono i veri abbandonati della situazione. Tanti cittadini ci hanno incontrato, ci hanno chiesto di essere più presenti, quindi proporremo delle consulte di quartiere che permettano ai vari rappresentanti dei vari quartieri di Busto di poter avere più voce ed essere ascoltati. Il primo momento in cui potremo vedere l'efficacia di questa operazione saranno gli illuminari, no? Sapete che io sono particolarmente affezionata e quindi voglio vedere quest'anno Busto tutta illuminata. Vediamo se questi 150.000 euro verranno spesi bene. Secondo argomento che mi preme molto è quello dei servizi sociali. Anche in questo caso continuerò l'azione amministrativa di questi cinque anni e chiederò al nuovo ossessore di fare più del precedente, che è riuscito unicamente a distribuire i soldi, molti soldi arrivati dal governo. Vogliamo un'azione più importante, ci sono tantissime fragilità che chiedono di essere ascoltate. Terzo settore e pari opportunità. Abbiamo fatto un convegno molto importante, chiediamo l'istituzione dell'ossessorato ad hoc, con un bilancio di genere dedicato. Anche in questo senso sarò precisa e puntuale. Chiudo dicendovi che a breve attiverò una mia pagina personale su Facebook, in modo che tutti quanti possiate seguire i miei lavori consigliari, la mia attività e possiate ancora più facilmente raggiungermi per tutte le necessità. Grazie mille!